L'attrito di attrito è sempre contro se io sto nuotando in un fluido e io mi muovo di là la forza viscosa è di là quando poi giro e mi sposto la forza viscosa è di là quando io faccio una strada chiusa un percorso chiuso la forza viscosa è sempre contro di me quindi quando io faccio uno spostamento per esempio faccio un percorso chiuso di questo tipo mi sposto di qua, mi sposto di qua mi sposto di qua la forza di attrito è sempre cosa deducete? che la forza di attrito non è una forza conservativa no? per essere una forza conservativa facendo un percorso chiuso dovrei avere un integrale col bilinio 0 il lavoro dovrebbe essere 0 invece la forza di attrito il lavoro non è 0, addirittura è negativo perchè qualsiasi spostamento che faccio la forza si oppone al mio spostamento quindi ho un prodotto scalare negativo d'accordo? quindi l'ho accennato l'altro giorno ma vorrei fare un commento se voi avete questo benedetto piano inquinato e il corpo sta scivolando giù voi avete sicuramente la forza peso il corpo si sta muovendo in questa direzione mica si muove in questa quindi in questa direzione qui io ho sicuramente magari disegno un po' la direzione in questa direzione perpendicolare al piano e la direzione parallela al piano io prendo la forza peso e la scompongo in due pezzi uno è nella direzione del piano e l'altro è perpendicolare questa parte qui perciò questa parte qui per il fatto che il corpo va in questa direzione e non va in questa evidentemente il piano sta esercitando sul blocco una forza che è esattamente uguale e contraria a questa qui questo non si piove quindi io ho una forza che è che è qua non voglio farlo in rosso se niente ridico il disegno ho una forza che chiamiamo la forza normale che è esattamente contraria a questa quindi il modulo della forza normale è proprio mg per il coseno di finta e questo è mg questo pezzo qui il modulo di questo pezzo è mg coseno di theta il modulo di questo pezzo qui è mg coseno di theta qual è theta? non l'ho messo, perdonatemi questo è theta che quindi è questo angolo qua quindi questo è il cateto adecente all'angolo coseno questo non si piove se il piano non è liscio e il corpo sta scivolando non vorrei fare questo perchè mi sono fatto vedere un'ernia tanti anni fa sollevando un tavolo che era troppo anche perchè il tavolo si rompe l'ho fatto l'altro giorno vedete questo al certo momento comincia a scivolare ci sarà una forza in questa direzione magari lo disegno così questa qua la chiamo forza di attrito quindi la somma silenzio ho già fatto questo commento quindi potrei anche risparmiarlo lo sto facendo per il vostro bene questa è la forza di reazione normale questa qui l'ho scritto del posto sbagliato cioè l'ho scritto del posto giusto ma è sbagliato nel senso che mi impedisce di fare un disegno di centro questa è la forza della trip questa è la reazione del piano il piano che garantisce che il blocco si muova lungo il piano la somma di questi due è chiamata anche la reazione del piano un po' per caso sembra parallela a questo è solo perchè vogliamo enfatizzare il disegno perchè siccome il disegno può mandare un messaggio sbagliato non voglio che qualcuno pensi che questo sia di parallelo a quello quindi cambio di molto il disegno in modo che questo non mi venga per esempio magari inclino meno questa è la forza peso la faccio bella lunga questo è il blocco questa è la direzione normale efficente questa direzione parallela questo è la componente metriucana questo è la componente metriucana anzi di nuovo l'ho fatto troppo corto inclino di più in modo che questo sia più lungo inclino ola questa è la forza io voglio che non ci siano dubbi che quella forza di reazione del piano non è necessariamente parallela a questa quindi questa è la questa è la questa è la relazione normale immaginate che la forza di attrito sia questa ok? anzi la forza di attrito nasce dall'interazione di contatto tra il blocco e il tavolo dove lo disegniamo qua la forza peso il disegno del centro di massa la reazione del piano dovrei disegnare a rigore lì che è il contatto col tavolo quindi vedete che questa qui è la reazione del piano ok? questa è la parte normale questa è la forza di attrito questo questa la chiamiamo la reazione del piano e questa è la forza peso d'accordo? la forza peso si disegna nel centro di massa il blocco sono blocchi ideali d'accordo? questo disegno è forse il migliore perchè manda un messaggio chiaro che la forza di reazione non è assolutamente antiparallelo alla forza peso il disegno di prima era pericoloso perchè alcuni di voi studiano senza pensare e prendono le cose in maniera troppo passiva va bene allora se io faccio il calcolo della variazione dell'energia cinetica da un punto B da un punto A a un punto B la quota questo è l'asse X questo è XA e questo è XB e si sta spostando KB-KA come avete capito è l'integrale lungo la traiettoria della forza totale della forza totale che sta agendo sul corpo ma qual'è la forza totale? la forza totale è la forza peso la forza di reazione del piano la forza totale la forza totale è compresa quindi facciamo così la forza normale più la forza totale e questa complessivamente è chiamata la reazione del piano ok? poi io continuo e dico che questo è uguale ovviamente è lungo la traiettoria l'ho fatto questo l'altro giorno ma forse è troppo velocemente senza poi fare il commento finale che era quello che valeva la pena fare mi sono perdito quando sono in classe faccio sempre in mente locale cosa ho detto perchè mi serve per capire se ho detto tutto quello che voglio dire o no mi serve per scoprire se ho fatto errori per finalmente correggere ok? questa è 0 perchè? perchè n è perpendicolare agli spostamenti questo è banale questa dove posso scrivere? qua questa la posso calcolare perchè posso cambiare la traiettoria in una curva qualsiasi perchè mg è una forza uniforme e le forze uniformi sono irrotazionali e quindi proprio perchè scelgo una curva qualsiasi penso a quello che va giù dritto e poi orizzontale nello spostamento matematico orizzontale non c'è lavoro nello spostamento matematico lungo la verticale il lavoro è mg per la differenza per il dislivello questo è banale l'abbiamo fatto rimane questo ma questa roba qua quindi scriviamo voglio scrivere un simbolo nei libri italiani il lavoro il simbolo è una L che è lavoro ma io non amo usare la L non perchè sono la mia prima lingua è l'inglese ma perchè la L è il simbolo che per il momento è la qualità di moto quindi io userò W quindi chiamo questo il lavoro fatto dall'attrito sul blocco questa è la forza che il blocco sente per effetto di interazione con il tau ok? è la forza di attrito sul blocco allora cosa ho detto? lo vedete anche qua che gli spostamenti sono in questa direzione se lui sta scendendo è chiaro che se io lo spingevo verso l'alto e stava slittando verso l'alto comunque il lavoro dell'attrito sarebbe stato negativo è sempre negativo perchè cos'è il lavoro? è il prodotto scalare tra una forza e lo spostamento quindi se la forza è antiparallela o ha una componente antiparallela lo spostamento sarà negativo e l'attrito rema sempre contro quindi questa roba qua è sempre negativo questa cosa qua è sempre negativo teniamo la mente questo e metto i pezzi assieme quindi ho KB-KA è uguale a questa roba quindi cancello tutto questo per portare KB-KA qui questa roba qua potevo anche scriverla qua l'ho scritta espressione tra perchè so il valore l'abbiamo calcolato assieme ma se non me lo ricordavo che era Mg dislivello io potevo comunque dire che la parte della forza peso per cortesia questa qua proprio perchè questa è una forza conservativa io anche senza ricordarmi questa forma avrei potuto scrivere cosa? U A meno U B giusto? avrei potuto dire che c'è una U che è l'energia chiamata di posizione della forza peso quindi è meglio tenere presente che questa è la U della forza peso non è la U mezzo Kx quadro è la U di questa forza qua e questo era calcolato nella A meno quel valore della funzione magari non me la ricordo ma scrivo così magari non mi ricordo cos'è la U ma so che è conservativa quindi il lavoro di una forza conservativa da A B uguale a U A meno U B perchè c'è quel segno meno che abbiamo fatto l'ora scorsa quindi questa qua è proprio U A meno U B quindi cosa faccio? porto al di qua delle varianze quello che ha pedice B e porto al di là quello che ha pedice A e mi ritrovo che Kb più U B è uguale a K A più U A più questa cosa qua dove però questa cosa è negativa cosa concludete? qual'è la conclusione? questa qua la chiamo l'energia iniziale l'energia finale scusatemi la E in B questa è la E in A quindi la E in B cos'è? è la somma dell'energia di posizione della forza peso e dell'energia di movimento quando il corpo è in B quindi quando è qua quando è qua lui ha una certa velocità quindi ha un'energia di movimento ha una certa quota quindi ha una certa energia di posizione quando era qui aveva una certa velocità una certa energia di movimento aveva una certa quota quindi aveva una certa energia di posizione dovuta alla forza peso le cose per effetto della forza peso hanno un'energia di posizione a seconda di dove sono in verticale, no? a seconda della loro quota quindi questa è l'energia di movimento l'energia di posizione della forza peso dopo nella posizione finale B quindi se volete che sia chiaro che la B è la posizione finale perchè stiamo partendo dalla A certo che potrei fare il discorso dove sta salendo e cosa concludete? questa è una roba negativa cosa concludete? vedete che l'energia nella posizione B è più piccola dell'energia nella posizione A perchè avete una quantità e sottraete qualcosa di negativo cioè aggiungete qualcosa di negativo cioè state sottraendo quindi questo è più piccolo di questo di quanto? ok? l'energia è B meno E A è uguale a questa roba qua e questo è negativo quindi l'energia non si è conservata cosa intendiamo noi per energia qua per ora? intendiamo per noi l'energia è la somma di un'energia di movimento usiamo proprio i simboli ma l'energia di movimento più un'energia di posizione questa grandezza quando il piano era lubrificato era conservato quando un corpo cade senza l'attrito a viscosa con l'aria verrà conservata ma se c'è dell'attrito non è conservata alla faccia di quelli che dicono che l'energia si conserva ma è questa l'energia che non si conserva poi in realtà questo è un commento che faccio lo trovate su tutti i libri ho troppo poco tempo per parlarvi dell'attrito in maniera approfondita è evidente che la materia è fatta di atomi e di molecole e un atomo e una molecola hanno loro se voi guardate a livello microscopico cosa fa un atomo avrà un'energia di movimento e avrà anche un'energia di posizione perchè interagisce magari coulombianamente con elettroni, con altri atomi quindi a livello microscopico in realtà c'è solo energia di questo tipo ma a livello di blocchi macroscopici della materia abbiamo questo gesso che sta muovendosi e quindi potete vedere che c'è una mole, un numero spaventoso un numero di avogadro, di atomi che stanno muovendo tutti nella stessa direzione quando io lo lascio andare hanno tutti un'energia di posizione quassù globalmente complessivamente hanno un moto complessivo ma ci sono anche i moti degli atomi e forse ci sono i movimenti dei singoli atomi e l'energia di posizione dei singoli atomi che interagiscono tra di loro quindi noi esseri umani percepiamo il mondo essenzialmente con due qualità ci sono fenomeni coerenti e ci sono fenomeni casuali quindi quando questo gesso si muove c'è un moto collettivo ma quando poi va a sbattere tutta questa energia in qualche modo collettiva questa energia di movimento collettivo e questa energia di posizione collettiva viene distribuita tra energie di movimenti e posizioni dei singoli atomi in maniera completamente indipendente l'uno dall'altro e questo si chiama energia termica quindi l'energia termica a livello del singolo atomo si tratta sempre di energie di posizione e di movimento ma è un'energia in qualche modo disorganizzato invece quando queste energie sono organizzate e si muovono collettivamente abbiamo queste grandezze meccaniche macroscopiche che i meccanici amano tanto trattare quindi a livello macroscopico a livello di comportamento collettivo quel blocco non conserva l'energia coerente quella energia che è a mancare qua che è stato vedete che il lavoro è forse attrito è negativo è andata a finire a scaldare il blocco a scaldare il tavolo cioè è stata convertita in energia termica e l'energia termica è una misura dell'agitazione delle molecole d'accordo? quindi in realtà l'energia si conserva se guardate a livello atomico microscopico a livello macroscopico queste forme di energie che sono energie coerenti macroscopiche non si conserva perchè basta che venga disorganizzato il moto che questi moti collettivi o posizioni collettivi per l'appunto la qualità dell'energia viene degradata invece di essere un'energia collettiva e coerente viene a diventare un'energia incoerente d'accordo? attenzione a questo conto perchè è negativo? perchè la forza attrito se resti in grado di fare questo conto se il corpo stava salendo a fare la discussione se il corpo sta salendo e non scendendo cosa cambia? cambia qualcosa? pensate immaginate di avere un sistema di due particelle uno e due immaginate pure che loro formino il sistema d'accordo? immaginate pure che ci siano delle sorgenti io userò sempre di più queste parole immaginate che ci siano delle sorgenti di forze anche esterne nel sistema la uno interagisce con la due sente una forza la sorgente della quale è la due e sente una forza la sorgente della quale è la particella tre o quattro o cinque solo che la due è un compagno di sistema la tre è esterna quindi la forza complessiva sulla uno ammesso che le forze sono attrattive come ho disegnato qua questa è la forza della uno dovuta alla due questa è la forza della uno dovuta alla facciamo così la forza della uno è esterna ok? ci sono delle sorgenti esterne che potrebbe essere per esempio se questo era la tre potrebbe esserci anche la quattro quindi avevo anche questa forza qui la F1 dovuto alla quattro poi facevo la somma vettoriale di questi questa la chiamavo la forza sulla uno dovuta a sorgenti esterne d'accordo? la uno ha una forza dovuta al compagno del sistema e ha una forza dovuta a sorgenti esterne analogamente alla due qual è l'energia cinetica del sistema? l'energia cinetica del sistema è molto semplicemente la somma dell'energia cinetica delle due particelle che compongono il sistema quindi immaginate che questa sia la particella uno e la particella due in un certo istante poi c'è la forza esterna in un istante successivo magari la uno si è portato qua e la due si è portato qua ok? quindi il sistema sta evolvendo nel tempo cambia la sua configurazione sia per effetto delle forze interne che per effetto delle forze esterne questa qua la chiamo la configurazione A questa la chiamo la configurazione B cioè nel tempo nell'istante A, TA il sistema è così nell'istante TB il sistema è pomido ok? chiamiamo KA l'energia cinetica del sistema quando è nella configurazione A e chiamo KB l'energia cinetica del sistema quando è nella configurazione B quindi KA è l'energia cinetica della particella A1 quando è nella configurazione A e più l'energia della particella 2 quando è nella configurazione A eccetera eccetera per cortesia qual è la variazione dell'energia cinetica del sistema? il sistema ha una certa energia cinetica CA il sistema evolve al passare del tempo le particelle si trovano da qualche altra parte ognuno è soggetto alla legge di Newton M1 A1 e questo è uguale a forza totale quindi la forza totale è F12 più F1 dovuta a sorgenti esterne M2A è l'equazione di Newton della particella 2 quindi sia dovuta all'interazione con la 1 più l'eventuale interazione della 2 con sorgenti esterne perché questa è la forza totale sulla particella 1 questa è la forza totale sulla particella 2 quindi MA non dimenticatelo mai MA uguale F questa F qui è la forza totale non dimenticatelo mai quindi qual è la variazione dell'energia cinetica? si impostano le cose in maniera abbastanza semplice KB-KA quindi deve essere chiaro questa è l'energia del sistema Dalla configurazione A alla configurazione B la forza totale sulla particella 1 nel suo spostamento lungo ovviamente la sua traiettoria facciamo C1 ma è chiaro che questa è la traiettoria della 1 la parola traiettoria è troppo lunga mi rompo a scriverlo è chiaro ormai perché avete capito che quella è la traiettoria della particella 1 quindi la particella 1 sta facendo una certa traiettoria la particella 2 sta facendo una certa traiettoria quindi questa è la curva 1 e questa è la curva 2 dove questa è l'energia diciamo questa è la variazione dell'energia cinetica della particella 1 e questa è l'energia cinetica della particella 2 la variazione dell'energia cinetica della particella 2 ok? molto semplice c'è una zanzarona la vedete? si sono di 52 ah! se questa notazione vi se questa notazione vi vi da fastidio ho pensato a questa come la posizione la posizione della particella 1 quando è nella configurazione A trovo questo sia più facile come notazione se no dovrei scrivere ecco questa è la posizione della particella 1 nella configurazione A ci capiamo? no? cosa sia più possibile? no? no? tu è per il suo possibile? no? 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 Ok? La forza sullo 1 è la forza totale, sia quella interna che quella esterna Guardate, questi qua sono uguali ai contrari Intanto avviciniamoli, cioè prendiamo le forze interne da un lato, cioè raggruppiamo Ovviamente è abbastanza evidente dalla definizione di integrare equilineo che è un'operazione lineare, cioè potete, l'integrale equilineo è uguale alla somma di due integrali equilineo e vale anche la proprietà associativa, potete associarli come volete in fondo perché questo è il prodotto scalare e potete fare gli arrangiamenti come volete Quindi, per esempio, associamo le forze interne e associamo le forze esterne Quindi abbiamo F12 prodotto scalare del R1 più F21 prodotto scalare del R2 Ovviamente questo è, facciamo così, lungo la... ci capiamo? La notazione comincia ad essere pesante qua E' chiaro che ognuno di questi è lungo la propria traiettoria, no? Ah sì, bene Questa roba qua, quella roba qua, la chiamo il lavoro delle forze esterne sul sistema Nel portare il sistema dalla configurazione A alla configurazione B Potrei fare come l'ho fatto qui e metterli sotto un unico... Però dovete ovviamente stare un po' attenti Quindi è chiaro che è sottinteso perché la vostra azione non può essere così prolissa da continuamente... potrei cercare di farlo Ricordate questa è la traiettoria 1 e questa è la traiettoria 2 E' ovvio che è implicito qua, che questo pezzo è calcolato lungo la traiettoria 1 e questo è calcolato lungo la traiettoria 2 Quindi deve essere in qualche modo chiaro a voi Quindi questi sono pezzi che sono calcolati lungo traiettoria diversi Le sono scritte insieme per mettere a fuoco la vostra attenzione Quindi di nuovo questo è lungo la curva 1 e la curva 2 Vedete che la notazione è pericolosamente pesante Quindi dovete avere le idee chiare cosa sta succedendo Poi potete alleggerire la notazione Se siete consapevoli di quello che fate Potete alleggerire la notazione In un certo momento non servirà più farlo perché sarà chiaro Questa roba qua, vedete? Questa roba qua, io la chiamo il lavoro della forza esterna sul sistema Nell'andare da A a B Quindi questo è dall'andare da A a B Cioè dalla configurazione A alla configurazione B Per andare dalla configurazione A alla configurazione B Le forze esterne hanno compiuto un lavoro Quale lavoro? Quegli integrali lì che li ho scritti così Solo per così mettete chiaro in vostra testa Cioè il contributo di questo pezzo e il contributo di questo pezzo Adesso voglio giocare su questo pezzo qua Allora, continuo di qua Quello di cui farò uso, vi do un'anticipazione Mette cancello, quello di cui voglio fare uso è in fondo La terza legge di Newton Che le forze interne F1-2, F2-1 sono strettamente impalettate Sono antiparallele e lungo la linea che congiunge la particella 1 con la particella 2 Quindi riprendo qua giù Anzi, prima di riprendere voglio discutere da solo Poi una volta che tiro fuori quanto vale continuo da solo Quindi cosa abbiamo? Abbiamo l'integrale da A a B di F1-2 dr1 Più meno F1 Questo qui è F2-1 quindi lo giro Ok? Ho questo integrale, magari faccio una parentesi quadrata qua Di nuovo, questo è lungo la curva 1, la traiettoria 1, questo è lungo la traiettoria 2 Si capisce la traiettoria perchè è dato degli spostamenti, no? Questi li posso accostare assieme Questi li posso accostare assieme Quindi faccio Metto in evidenza Metto magari una parentesi qua Allora, se questa è la particella 1 E questa è la particella 2 E questa è l'origine Questo signore qui Vedete questo strano oggetto? Cos'è? Allora, dr1-dr2 è il differenziale di r1-r2 Chi è r1-r2? r1-r2 è la posizione della 1 rispetto alla 2 Quindi questo è il vettore r1-r2 Come potete vedere Inverto la r2 e vado qua Quindi è la posizione della 1 rispetto alla 2 Quindi il differenziale di r1-r2 E' il differenziale del vettore E' il differenziale del vettore Che descrive la posizione della 1 rispetto alla 2 Allora ci sono molte forze Che dipendono dalla distanza delle particelle La forza di Coulomb La forza di gravitazione Pensate un attimo Questo ormai non mi serve più Lo posso cancellare Quindi questo pezzo qua La riscrivo così La riscrivo così Ok? Come il differenziale di r1-r2 r1-r2 è quello che io chiamo r1-r2 Solo per reggerire la notazione Quindi r1-r2 E' il vettore posizione dalla 1 rispetto alla 2 E' questo vettore qua Quindi il vettore Come potremmo chiamarlo? Il vettore separazione Che misura di quanto la 1 è distante dalla 2 Dalla 2 alla 1 D'accordo? Quindi l'ho scritto così Guardatelo Adesso ci sono tante forze Dove la 1-2 Dipende solo dalla distanza Pensate Per esempio Coulomb Visto che stiamo per fare Coulomb U1-q2 Diviso r1-r2 Al quadrato u1-2 O certe volte l'ho anche scritto con 3 qua E con...no? Non è questo il caso? Vedete che è una forza Come anche la gravitazione Magari la gravitazione la scrivo con l'altra Mostrazione M1-m2 R1-r2 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 Sono le due modi di scriverlo O col versore o così Ma il messaggio è che la forza dipende dal vettore R1-r1-r2 Quindi in effetti Con forza di questo tipo Eccetera eccetera Il italiano l'Eccetera è C,C Perché in inglese la viene il latino E,T,C A proposito Allora, mi è venuto poi in mente cosa vuol dire EG vuol dire, adesso in latino non so come pronunciare exempla, grazia, qualcosa del genere Qualcuno ha studiato il latino? C'è un classico? Beh, chi ha fatto lo scientifico ha fatto il latino, no? Come si direbbe? exempli, grazia, qualcosa del genere è un esempio, cosa vorrebbe dire grazia? Gratuito? Tieni qua, questo è un esempio, beccato Cosa vuol dire? Grazie al senso di graziato? Allora, il passaggio che sto per fare ve lo butto lì, voglio che voi ci pensiate alla luce di quello che ho fatto l'ora fa questo è un integrale col bilinio un po' complicato sembrerebbe però il fatto è che questa forza se è di questo tipo e dipende solo dalla distanza questo diventa un integrale ordinario diventa un integrale ordinario della dipendenza dalla forza dalla distanza dei due il derivato sulla distanza dei due dalla loro posizione relativa chiamiamola RA a RB quindi quando era nella configurazione A questa distanza qua la chiamo RA quando era nella configurazione B questa distanza la chiamo RB quindi questa diventa la distanza la distanza tra le particelle 1 e 2 e la funzione F di R avrà una dipendenza la distanza che dipenderà dal tipo di forza per esempio se la forza è di tipo questo non posso cancellarlo perché ho il pezzo che vi serve quello che ho scritto per ora di qua è questo pezzo quel pezzo la io voglio fare solo un commento su cosa sia questa roba qui e siete già pronti perché riciclarti quello che ho fatto prima la FR potrebbe essere per esempio A-KR se questi due sono collegati che so da una molla potrebbe essere K E Q1 Q2 diviso la distanza al quadrato quando è una interazione colombiana questa è una carica, questa è una carica potrebbe essere meno G vedete che c'è il meno quindi questa funzione qui descrive la dipendenza dalla distanza tra le particelle c'è un segno meno, dipende che segno è sempre qua, dipenderà questo invece è sempre... ok? e a questo punto uno potrebbe dire beh... questo è banale a questo punto ma potrebbe anche avere un approccio un po' più generale perché questi sono dei casi molto particolari supponete che la forza che c'è tra le due particelle sia conservativo se è conservativo allora voi potete dire che questa roba qui è uguale a U A meno U B dove le U saranno le associate a queste cioè anche senza fare esplicitamente il conto a seconda di quale è la forza voi potete dire se è conservativo voi anche senza fare esplicitamente il conto potete invocare l'energia di posizione di quella forza e potete dire che questo è uguale a U A meno U B di nuovo ricordate il segno meno quindi avete U A meno U B e non U B meno U A e quindi mettiamo i pezzi assieme se è uguale a U A meno U A meno U B del sistema più questa roba qua deve andare da A a B quindi la U del sistema cos'è? beh dipenderà dalla forza che sta facendo interagire con le due particelle quindi mettete se volete tutto quello che dipende dalla B da un lato e tutto quello che dipende dalla A sull'altro e cosa avete? che la A E B è uguale alla E A più il lavoro della forza esterna sul sistema dell'andare da A a B dove la A e la E del sistema cos'è? è la K più la U cos'è la K? è l'energia delle particelle che compongono il sistema e cos'è la U? è l'energia potenziale, l'energia di posizione associata alla forza che gli sta facendo interagire quindi per esempio in un certo istante qual è l'energia A? scrivetela sarà per esempio lo so questa è la configurazione A e immaginate che qua ci sia un'interazione che cosa facciamo? gravitazionale questa è la 1 e questa 2 la 1 ha una certa velocità la 2 ha una certa velocità questa è la V2 nella configurazione B quindi questa è la velocità dalla particella 1 a B configurazione A e questa è la distanza tra di loro la RA scrivete specificamente l'energia del sistema cos'è l'energia del sistema? è un mezzo M1 V1 nella configurazione A al quadrato più un mezzo M2 la velocità della 2 della configurazione A modulo quadro più questo ovviamente non voglio cancellarlo scrivo così se è la gravitazione cosa scrivo qua? più C se invece è che so una molla sarebbe un mezzo ovviamente le energie cinetiche quello non cambia mai quindi lasciamo perdere la configurazione e lascio perdere A scrivo semplicemente questo cosa scrivo qua? nel caso della molla cosa scrivo nel caso della molla? più un mezzo un mezzo K R al quadrato più C dove cos'è R? è la distanza tra le particelle nel caso della interazione colombiana su due particelle K1 più K2 più ok? allora quello che ho appena dimostrato è che E B meno U A non scrivo come era prima tutte e due la stessa frase ma permette di leggerlo in maniera diversa questo mi dice che che l'energia del sistema cosa si intende per l'energia? la somma delle energie cinetiche più l'energia di posizione per il fatto che i due corpi nel sistema hanno una certa posizione relativa l'energia del sistema nella configurazione B è uguale a quella che nella configurazione A più il lavoro delle forze esterne per andare da A a B quindi se il lavoro delle forze esterne per andare da A a B è zero cioè il sistema è isolato l'energia si conserva se il lavoro fatto dalle forze esterne per andare da A a B è positivo l'energia aumenta se è negativo l'energia ridurisce la variazione dell'energia è zero se il lavoro delle forze esterne è zero se il lavoro delle forze esterne è positivo l'energia aumenta se il lavoro delle forze interne è negativo l'energia diminuisce la generalizzazione di questa è la prima legge della termodinamica che dice che un sistema ha una certa energia se voi fate del lavoro sul sistema l'energia interna del sistema aumenta se voi fate se voi prendete del calore poi io in questo corso non facciamo della dinamica ma sono cose che forse avete sentito dire se prendete dell'energia termica e la mettete dentro il sistema ma l'energia termica è un'energia incoerente non è ovvio che qualcosa si stia muovendo uno stantuffo un pistone una mano prendete qualcosa che è caldo e l'avvicinate al sistema non c'è qualcosa che si muove non è un pistone o una ruota o degli schiavi quei tipi di trasferimento di energia dove qualcosa si muove è la parte meccanica è la parte coerente invece quando non vedete niente che si sta muovendo ma a livello atomico si che si muovono quel modo di trasferire energia è appunto per contatto termico state trasferendo energia al sistema ma questo è il trasferimento meccanico e poi potrei avere più il trasferimento per calore quindi io posso cambiare l'energia del sistema sia facendo coerentemente del lavoro il meccanico che fa un pistone sia mettendolo in contatto con qualcosa di caldo e trasferire energia in maniera incoerente quindi la generalizzazione di questa è la prima lesa interinamica che non è in programma però ci vediamo alle due